La manovra economica del governo, cheppure sembra essere a parere bipartisan l'unica risposta alle speculazioni che rischiano di affossare il bel paese, si rivela per le amministrazioni comunali un colpo davvero duro da digerire. E a farne le spese, con ogni probabilità, saranno ancora una volta i cittadini, che vedono restringersi ulteriormente i bacini di investimento per manutenzioni di infrastrutture in città. Stando alle parole dell'assessore al bilancio Valentina Morigi, la manovra ammina il rapporto tra cento e periferia nella dinamica tra istituzioni politiche e amministrative, prevedendo tagli ulteriori alle entrate comunali, ma senza allentare il cappio del patto di stabilità. Patto di stabilità che tante buche ha già portato in strada anche a Ravenna. Insomma, ai 13 miliardi di tagli dell'ultima manovra economica se ne aggiungono altri 9 di questa, con buona pace del sistema del welfare, che andrà rivisto. La manovra costringe dunque i comuni ad una prima variazione del bilancio, che prevede un ammanco di 276 mila euro dovuto al totem leghista, ovvero il federalismo fiscale, e ai tagli ai costi della politica. Piccolo controsenso, dato che si tagliano i costi della politica, facendo calare le entrate ai comuni per i cittadini. Insomma, Palazzo Merlato pensa ad una manovra che verrà varata grazie agli oltre 4 milioni di euro che incasserà grazie alla vendita dei terreni pubblici in area portuale. Al momento attuale, gli investimenti non saranno bloccati, anche se tra qualche mese le cose potrebbero cambiare, dato che dei 16 milioni previsti potrebbero rimanerne soltanto 7. Insomma, in soldoni, fuori pericolo gli interventi in piazza Kennedy e al mercato coperto, non essendo il comune impegnato con risorse dirette. Si salvano gli interventi alla piazzetta delle poste, ma rischiano grosso le manutenzioni di strade, illuminazioni, plessi scolastici, impianti sportivi ed edifici comunali. Insomma, sarà un altro inverno di passione per le buche in strada. E cosa accadrà per le tante agognate illuminazioni degli stradelli di Marina? Per Ravenna Web TV Joseph François